Però adesso, visto che le vogliamo bene, le abbiamo fatto un regalo. Grazie. Abbiamo chiamato due bravi musicisti, che intoneranno Bella Ciao. Il suo microfono è aperto e quindi vogliamo vedere se la sa cantare, ma soprattutto non revole se sa le parole. Sono Ilaria Porceddu e Gabriele Giuliani. No, 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 voi siete cattivi. Prego, tanto cantano loro. Eccoli. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato un invasor, un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire la sua montagna. Sotto l'ombra di un bel fior, tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, 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 ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. L'aria Porcetto, Gabriele Ciberi, grazie. La sa tutta, la sa tutta. Se sapevo portavo il fazzoletto dell'Ampi. Scarica l'app, vai su iloft.it e abbonati. tarahratos per la libertà. La scuola del partigo del partito.it e abbonati.it e abbonati.it e abbonati.it e abbonati.it e abbonati.it e abbonati.it.it.it.